Sì! Sì! Ma... Ma mi hai...mi hai narcotizzata! Mi hai narcotizzata, che puoi farmi? Senti, sono un tipo solidario. Non ho mai nessuno con cui parlare. E adesso...ho incontrato te. Allora... Il 30 dicembre 2010 ho aperto il mio canale YouTube. Pensavo di fare i soldi come gli utopi. Facendo le video recensioni di film. Però...è molto difficile emergere nella YouTube del 2010. Ti rendi conto? La YouTube del 2010? Ora siamo nella YouTube del 2018. È impossibile emergere. 12, aprile 2012. Ho preso la mia patente. Bellissima. E ho guidato cinque volte. Però, Marigliano Casanovo, guidai bene. Poi ho litigato con mio padre, non so prendere più la patente. 2007. Poi quando ho fatto un giro in quad col motorista. Ti rendi conto? Cioè... Cinque semifinali consecutive UEFA. Hector Cooper è un genio. Cioè... Mallorca. Valencia e Inter. È vero che con l'Inter si è rovinato. Però cinque semifinali... Tre finali iniziali. Ma...è qualcosa di spettacolare. Mi ricordo in un certo senso UEA. UEA che negli anni 90 ti fece una finale e poi altre tre semifinali. Ma ti rendi conto? Ma questi giocatori sono sfortunati, cioè... Maldini... Senti! Violentami! Che meglio! Ah! 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 Grazie a tutti